siamo tornati e dammi le forbici zia forbici è arrivato il paccone dalla apple l'ipad 4 zia l'ipad 4 adesso lo apriamo ma dopo la mettiamo a posto la tovaglia e le frappe ce l'avrà bene lo sciarpeio le frappe e luca che l'è c'è perché i soldi da pagare è già pagato già pagato l'ipad non spedisce niente se non paghi conosciamo il pollo di guai eccolo qua mettiamo fuoco ipad di quarta generazione lo chiamano ipad con retina display ma anche il nuovo ipad della retina display chiamiamo l'ipad 4 e bon allora vediamo subito cosa c'è dentro ovviamente modello 16 giga solo wifi vediamo qua vediamo se riusciamo ad aprirlo eccolo qua bianco ovviamente l'ipad via quello prescrivere computer si chiama tablet 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 allora all'interno della confezione troviamo il solito manuale aspetta che ti spiego abbiamo il solito manuale con dentro gli adesivi il nuovo cavo lightning come su iphone 5 e il nuovo alimentatore da 12 volt vediamo di mettere a fuoco 12 watt volt watt bo chissà allora cosa riferisce dell'ipad 3 ovviamente riceverò commenti un acquisto inutile potevi tenere il 3 non cambia nulla eccetera eccetera allora esti da estetica non cambia nulla uguale identico cambia cosa da estetica il connettore che abbiamo perso il doc a 30 ping abbiamo il cavo lightning e cambia il cuore di questo nuovo tablet targato apple invece di avere processore a 5x abbiamo il nuovo a 6 x come potete vedere su internet da tutte le recensioni è il più potente processore mai montato su device mobile della apple da 10 a 0 a tutti ed è il doppio più veloce del modello precedente adesso te lo do in manotto adesso è spento zia adesso lo accendiamo aspetta ovviamente bisogna sincronizzarlo no cos'è quella roba lì la foglia d'edera ma non edera la mela è una foglia d'edera non vedi io buono l'edera l'edera velenosa non ha la forma di mela questa la forma di una foglia di edera ecco cosa c'è scritto qua q6 ipad 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 allora vedi qua si si scrolla cos'è e qua adesso da configurare no petta si può mettere la lingua mettiamo la lingua italiana no isa italiano da qualche bande italiano isa l'intensa sapere dimmi gli ultimi di tutto in tutto vai su e giù col dito zia cerchiamo italiano qadula isa cacca l'è cacca l'è scritto l'italiano le bravissima andiamo avanti qua cosa dice aspetta che non vedo come abbiamo combinato qua italiano paese italia adesso bisogna attivarlo no ma non abbiamo il wifi qua mi tocca andare a casa per attivarlo con questo dispositivo qua zia facciamo le foto guardiamo i film ascoltiamo la musica andiamo su internet e giochiamo tutto dentro qua adesso non possiamo fare niente perché bisogna attaccarlo il computer per accenderlo metto via allora questa quasi è già la quarta versione la quarta revisione da parte di apple del suo device pensa il modello vecchio era uscito a marzo e sto qua che il nuovo chiamiamolo 4 è uscito già ottobre quindi pochi mesi dopo pochi mesi hanno fabbricato ma la gente tutta arrabbiata su internet perché dice che non è giusto è giusto secondo te non è giusto ma è giusto ogni roba al suo tempo no si ma doveva dire di oggi domani di preparare una roba perché la roba è lunga da preparare non puoi dire si ma loro volevano aspettare un anno invece l'hanno sfornato subito pochi mesi dopo ma insomma fate questo ma non possono loro dire di sforre subito faccio oggi e domani te lo do devono lasciar correre un po' con le robe che vadano in vecchio beh più va in vecchio più soldi dopo prendono quindi secondo te dovevano farlo venire fuori più tardi eh ma lì secondo me hanno fatto fanno così fanno anche per tirare il cliente di più eh e così tirano il cliente di più spesso vicino e hanno più guadagno anche ma non è una mossa commerciale sbagliata questa qua è sbagliata nel senso che loro ti dicono una cosa sì tutti pensano invece dovevano un'altra eh perché tutti avevano già fatto affidamento su quella cosa e non avendola non vedendola venire vicino si sono arrabbiati quello si sa però zia dobbiamo dire la verità l'anno scorso no l'anno scorso quest'anno verso febbraio febbraio di quest'anno che è quasi finito c'era una voce che diceva ipad 3 a marzo e ipad 4 ad ottobre tutti quanti gli hanno detto sono balle impossibile e invece quello aveva ragione visto? quindi quello l'aveva già nasata ognuno ha la sua opinione ma aveva giusto quello no? aveva l'opinione giusta a quello ognuno ha la sua opinione quindi quindi mettiamo via tutto ciao e mettiamo via tutto e ciao 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 allora se mi impara se mi ha chiesto di finire mangiare le castagne e mangiare il sacramento